Cos'è il meningioma? Le membrane che circondano e proteggono il cervello sono chiamate meningi. Occasionalmente le cellule delle meningi si riproducono in modo anomalo e si svilupperà un tumore, chiamato meningioma. Sebbene possa essere canceroso, è più comunemente un tumore benigno. Ciò significa che non si diffonderà ad altre aree del cervello. La ragione per cui il tumore si sviluppa non è nota. Può verificarsi in persone di tutte le età ed è un po' più comune nelle donne. Gli individui che hanno subito una precedente radioterapia al cervello hanno un rischio aumentato. Non tutti gli individui avranno sintomi, specialmente se il tumore è piccolo. Quando i sintomi si sviluppano possono variare a seconda della posizione e delle dimensioni del meningioma e comprendono mal di testa, alterazioni visive e difficoltà auditive. Altri sintomi possono includere perdita di memoria ed eventualmente convulsioni. I sintomi possono essere lievi all'inizio. Man mano che il tumore cresce, i sintomi possono aumentare in frequenza e gravità. Alcuni test possono essere fatti per confermare una diagnosi. Una scansione di tomografia compoterizzata, CT, viene spesso eseguita per determinare la presenza e la posizione del meningioma. Alcuni medici potrebbero preferire che il paziente subisca una scansione di risonanza magnetica, risonanza magnetica. Una risonanza magnetica è un test più sensibile e in grado di rilevare piccoli cambiamenti nelle dimensioni di un tumore. Anche se un meningioma non è canceroso, potrebbe richiedere un trattamento. Il tipo di trattamento necessario dipenderà dalla dimensione del tumore, dalla posizione e dalla velocità con cui sembra crescere. Se un individuo non è sintomatico, il trattamento potrebbe non essere richiesto. Potrebbe essere necessaria una scansione tomografica compoterizzata di routine per monitorare la crescita del tumore. Quando è necessario un trattamento, la chirurgia può essere un'opzione. La chirurgia del meningioma per rimuovere il tumore può avere rischi, come infezioni danni ad altre aree del cervello. Un meningioma potrebbe non essere in grado di essere rimosso completamente durante l'intervento chirurgico. Sebbene il tumore sorga dalle membrane e non dal cervello stesso, può essere localizzato vicino al cervello ed essere pericoloso da rimuovere completamente. La radioterapia è un'altra opzione di trattamento. Può essere raccomandato se l'intero tumore non è stato rimosso durante l'intervento chirurgico. Un raggio esterno di radiazione è diretto verso le aree del tumore per distruggerlo. La radioterapia viene solitamente prescritta per diverse settimane. Sebbene tutti rispondano in modo diverso alla radioterapia, sono possibili effetti collaterali che possono includere affaticamento, mal di testa e nausea. Il recupero da un meningioma e il suo trattamento possono dipendere dalla salute generale del paziente, dalla dimensione del tumore e dall'età del paziente. Sebbene molti pazienti non abbiano mai una recidiva, è possibile che il tumore possa ricrescere dopo il trattamento. Si possono suggerire regolari scansioni computerizzate di tomografia per individuare tempestivamente una recidiva.